per tornare indicazioni o informazioni relativamente ai fatti e alle vicende narrate dal test Gian Felice Facchetti quanto più in particolare al rapporto che era esistito tra lo stesso Nuccini e Giacinto Facchetti a tutte le informazioni che il Nuccini aveva potuto transitare al Facchetti ed il Nuccini nell'ambito di questa dichiarazione resa quale persona informata sui fatti